Bandiera Bianca, il Consiglio del Giro delle Mura di Feltre ha deciso di annullare la 32esima edizione della manifestazione a scopo benefico. La motivazione ovviamente è legata al prolungarsi dell'emergenza sanitaria, in questo momento comunque sotto controllo ma pur sempre a rischio di peggioramento e visti i numeri registrati ogni anno dall'evento in grado di convogliare in centro migliaia di persone tra spettatori e partecipanti, si è deciso di attendere la prossima estate. Rinviata anche l'Urban Trail che si terrà venerdì 27 agosto 2021 e consentirà come sempre di scoprire angoli nascosti di Feltre. Il Giro delle Mura invece si terrà il giorno successivo. Giusto per inquadrare lo sforzo organizzativo e il lavoro messo in pausa basta osservare quello che sarebbe stato il programma di quest'anno. Venerdì 28 agosto la corsa notturna Urban Trail. Sabato 29 5 gare, alle 18 la sfida tra gli amatori sui 10 km, alle 19.30 la tappa del campionato europeo dei vigili del fuoco, alle 21 il miglio dei comuni sfida sui 1600 metri dedicata ai ragazzi nati tra il 2006 e il 2008. E poi alle 21.30 la corsa ad alti ritmi della Running 7 Labs in cui a sfidarsi sono 8 coppie formate da maschio e femmina compiendo 7 giri di un percorso di 400 metri dove l'ultimo atleta che raggiunge il traguardo è eliminato mentre gli altri passano il turno. Poi pochi istanti per recuperare il fiato e lo sparo dello starter fuori dalle gabbie per altri 400 metri. Infine il classico Giro delle Mura con i migliori mezzo fondisti che si confrontano in un tracciato da 1050 metri da compiere 9 volte. a questa gara in particolare partecipano in genere grandissimi campioni che a questo punto si dovranno preparare per l'appuntamento del 2021.